C'è poi una parte bellissima nel mio libro che è il capitolo che si intitola E poi si rialzano, dove io racconto molto di me in quel capitolo. Racconto tutta la storia della mia operazione, quella che mi segue a visto che ho fatto. Fin dai primi momenti da cui ho scoperto di avere questo foreign body, come lo chiamavo io, fino al momento dell'operazione. Però la cosa più bella è il rapporto che è uscito con tutti voi. Al di là dei rapporti umani, quelli che ho con gli amici, con i genitori, ci mancherebbe, ma quelli sono scontati. Ma in quel momento io ho capito quanto io ricevessi affetto da voi. E che quell'amore che io provavo nello starvi vicino era completamente ricambiato. È stato emozionante, ma è stata anche la mia forza. Io me lo ricordo ancora, quel giorno lì, quando arrivavo dalla sala operatoria, che non potevo usare il telefono perché avevo un mal di testa terribile, ma ce l'avevo lì vicino sul comodino e sentivo... c'era un continuo di notifiche che arrivavano e sapevo che dietro ogni c'era qualcuno di voi che mi diceva come va prof tutto bene prof ed è stato meraviglioso e io vi ho scritto così perché avevo un po paura di dirvi questa cosa non volevo appesantirvi e allora dico vabbè insomma qualche cosa devo devo dire perché è giusto che che sappiano che cosa sto passando e così alle dieci e mezza di venerdì mattina con l'ospedale alle spalle inizio a raccontare un pochino quello che mi sta succedendo ci scherzo sopra facendo vedere che mi perdo con la macchina nel parcheggio il libro è pieno di errorini e cerco di essere sempre positivo che ci crediate o no anche per non farvi preoccupare racconto come proseguono le giornate in isolamento promettendo che massacrerò tutti di storie perché ho bisogno di condividere il momento e ancora adesso che ci penso mi commuovo